ore 16 e 16, se non altro siamo stati puntuali. Grazie. Attualmente mi associo anch'io al ringraziamento dei partecipanti precedenti, alla sessione precedente per questo invito in questa sede così prestigiosa e autorevole che mi onora profondamente anche perché mi vedo attribuito questo ruolo di specialista del nuovo istituto della chiusura anticipata del fallimento in pendenza di giudizi. Un ruolo che mi viene segnato in realtà, in quanto infatti sono stato il primo, quantomeno nella dottrina di matrice accademica, ad occuparsi dell'argomento, in realtà per ragioni puramente casuali e contingenti, non perché abbia antiveduto l'importanza di questo istituto, abbia saputo capire prima degli altri il suo rilievo. Per ragioni casuali dicevo nel senso che all'epoca ero impegnato, avevo già concluso il capitolo, la parte dedicata alla chiusura del fallimento sul trattato Iorio-Sassani, consegnata in tempo, cioè alla fine del 2014. A tutto giugno 2015 non erano ancora arrivate le bozze, perché come tutti sanno coloro che hanno avuto la disgrazia di rimanere implicati in opere collettive basta un unico ritardatario e si blocca tutto il carrozzone, per cui ritarda, 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 quel punto arriva nel giugno 2015, come ben sappiamo, il decreto legge 2083 che introduce questo istituto. Che me ne dovessi occupare specificamente io ebbi a sollevare qualche obiezione, perché come ho più volte scritto, noi parliamo comunemente in linguaggio corrente, nell'essere corrente si parla, anch'io ne ho parlato, di chiusura anticipata. In realtà qui non ne viene anticipata la chiusura, perché la chiusura consegue sempre e regolarmente la ripartizione finale, è un involgimento obbligato, automatico di quella che è la ripartizione finale. Quello che viene anticipato rispetto al sistema ordinario è la ripartizione finale. Quello che cambia non è il presupposto della chiusura, ma è il presupposto della ripartizione finale, e cioè quell'esaurimento dell'attivo, della liquidazione dell'attivo, che è richiamo nell'articolo 116. Quindi il legislatore ha modificato la lettera dell'articolo 118, ma è una modifica che va poi ad impingere, a ripercuotersi sul significato dei precedenti articoli 116 e 117. Questo obbiettai, ma il curatore dell'opera, il professor Iorio, questi argomenti non fecero assolutamente breccia nel suo cuore, quindi mi sono dovuto appunto sorbire questo argomento. Per il quale in realtà la mia notorietà, o popolarità come si voglia dire, come specialista d'argomento, è dovuto in realtà alla generosità e la gentilezza dell'avvocato Benassi, che ha aperto le porte della sua benemerita rivista elettronica ai miei contributi sull'argomento. Dopodiché quello che ho scritto sul trattato Iorio-Sassani è stato cancellato dalla terra, non ce n'è uno che è uno che mi abbia citato, che abbia citato i miei contributi su quel trattato. Tutto Montanari, la riforma e la chiusura, Montanari è ancora sulla riforma, in www.ilcaso.it, eccetera, eccetera. Nel che non vi è nulla ben inteso di male, però la dice lunga e induce a riflettere su questa mania delle case editrici italiane di gettare continuamente sul mercato a ritmo incessante opere monumentali di diritto fallimentare che fanno decisamente concorrenze, stanno decisamente alla pari con opere mitiche tipo il commentario Jäger alla Concursordnung tedesca oppure il Müschnik Kommentar alla insolvenza attuale. Però opere che, come dimostra la mia microvicenda, nessuno legge e temo, se tanto mi da tanto, nessuno compri. Al di là di questo aspetto, di questa chiosa volta a spiegare le ragioni della mia odierna presenza, devo dire che oltre che onorato nell'ufficio che la dottoressa Simone mi ha voluto assegnare, il comitato organizzativo mi ha voluto assegnare, attendo questo ufficio, questo compito con estremamente vivo interesse. In quanto mi offre l'opportunità di dare uno sguardo a questa materia da un punto di vista decisamente diverso da quello mio consueto di teorico delle procedure concorsuali, in realtà teorico del processo che non delle procedure concorsuali, ossia l'opportunità di conoscere e valutare l'istituto in quella che è la sua dimensione pratica applicativa, nella sua dimensione, come diceva Carnelutti, clinica. Proprio per questo, proprio per la possibilità di avere questo differente angolo di osservazione che non voglio settrare assolutamente altro tempo ai protagonisti della tavola rotonda. Io sono nuovo, per cui non conoscevo il format che è stato seguito precedentemente dal collega Ambrosini e probabilmente non lo conoscevano neanche gli altri partecipanti, nel senso che noi non abbiamo previsto il doppio giro, noi ci siamo ripartiti o meglio, io ho proposto una ripartizione che poi è stata ampiamente negoziata con gli altri protagonisti di questa tavola rotonda, per cui la suddivisione è una suddivisione secca, orizzontale, come si può dire, cioè determinati argomenti spetteranno all'uno, poi all'altro, poi all'altro. Per cui la tavola rotonda si apre con il contributo della dottoressa Mirabelli, che interviene per prime e dalla quale spetta di tracciare quelli che possiamo chiamare i confini esterni dell'istituto, cioè il novero delle iniziative giudiziali la cui pendenza oggi non possa più considerarsi d'ostacolo alla ripartizione finale e alla conseguente chiusura del fallimento. Esplicitando dunque in termini appropriati e sistematicamente coerenti quel generico, ma più che generico direi assolutamente approssimativo riferimento legislativo ai giudizi in cui il curatore mantiene la legittimazione all'articolo 43 della legge fallimentare. In realtà il novero delle iniziative giudiziali interessate non coincide assolutamente con questi giudizi, in cui tra l'altro non viene pure un mantenimento di una legittimazione, che è il primo macro-area, il primo macro-argomento che verrà affrontato in questa sede. Dopodiché prenderà la parola, almeno così ci eravamo accortati, il quale si soffermerà sull'iter procedimentale destinato a sfociare nel decreto di chiusura anticipata, sui contenuti specifici del decreto di chiusura allorché vi siano giudizi pendenti e ovviamente sui contenuti specifici che deve a monte assumere il decreto e il provvedimento di riparto finale, sul problema relativo alla persistente operatività in caso di pendenza di giudizi della regola che impone la cancellazione della società fallita in caso di chiusura del suo fallimento per ripartizione finale ex articolo 118 numero 3 e infine il dottor Conca con gesto di ammirevole cavalleria nei confronti delle sue colleghe si sacrificherà confrontandosi con un tema spinoso che anch'io nei miei contributi in argomento ho sempre schivato come la morte che è l'argomento della compatibilità di questo istituto con le problematiche fiscali della chiusura anticipata. Al cui riguardio mi sono sempre soltanto limitato a enunciare un criterio d'ordine meramente metodologico come quello per cui l'interpretazione della normativa fallimentare non può essere condizionata dalle esigenze tributarie in nome di un principio generale dal quale io credo non si debba mai diflettere che è quello della ancillarità della normativa tributaria rispetto a quella civilistica laddove la normativa tributaria acceda a determinati presupposti d'ordine civile o processuale. E se poi vi sono problemi di compatibilità tra la normativa civilistica e quella tributaria è un problema del legislatore tributario, è un problema dell'amministrazione tributaria che li risolverà con le leggi, con le circolari del caso. Non è un problema del civilista, non è un problema del fallimentarista o del processuale civilista. Infine accompagnati dalla dottoressa De Bernardin ci inoltreremo nella dimensione post fallimentare della chiusura anticipata, nella dimensione post fallimentare dell'istituto ossia in quell'universo che sono gli adempimenti successivi al decreto di chiusura anticipata, quindi gestione delle liti che proseguono ma proseguono nei contraddittori del curatore e nell'interesse della massa, riparti post fallimentari, se del caso liquidazioni post fallimentari e tutto quello che eventualmente ne segue o che rimane. Per cui conformemente alla rapidissima programmazione che ho appena stilato cedo la parola alla dottoressa Mirabelli sul tema dell'ambito dei procedimenti giudiziali la cui pendenza non è più, non può più considerarsi d'ostacolo alla chiusura del fallimento. Grazie professore. Anch'io cercherò di essere molto breve ma anche io non posso esimermi da ringraziare gli organizzatori per l'invito e per la splendida ospitalità. Entro subito nella questione facendo una piccolissima introduzione. Fino all'estate del 2015 lo stato dell'arte con riferimento a fallimenti che avessero compiuto la fase diciamo propria di liquidazione dell'attivo, la monetizzazione dei beni, era quella per cui se residuavano delle liti attive o passive che fossero il curatore si trovava nella condizione con riferimento alle liti passive di poter anche secondo un diciamo insegnamento tradizionale della Cassazione poter addivenire comunque la chiusura se del caso con accantonamenti in ipotesi però tipiche tassative. Per quanto riguarda invece le liti attive valutata la convenienza di mantenere tali controversie quindi solo se reputate effettivamente convenienti perché in grado di portare un attivo da distribuire evidentemente il curatore non aveva altra alternativa che mantenere aperto il fallimento fino ad esperire eventualmente tutti i gradi di giudizio anche l'attività esecutiva conseguente in caso di mancato spontaneo adempimento. Questo cosa significava oltre alla lunghissima durata delle procedure fallimentari di cui tutti siamo ben consci anche purtroppo la necessità a volte di accettare le transazioni a condizioni sfavorevoli anche nei confronti rispetto ad azioni pienamente fondate nei confronti di soggetti solvibili proprio per poter finalmente chiudere i fallimenti. Arriva dunque la chiamiamola mini reforma dell'estate dell'anno scorso e detta almeno tre norme che sono finalizzate all'accelerazione della chiusura dei fallimenti e che rapidamente illustro perché mi servono più che altro per spiegare la razio della neo introdotte disposizioni dell'articolo 118 ai fini della sua interpretazione perché ciò con cui tutti ci siamo dovuti confrontare all'entrata in vigore di questa disciplina che come sappiamo si applica a tutti i fallimenti anche già aperti alla data di entrata in vigore quindi al 21 di agosto dell'anno scorso è proprio il tenore testuale delle norme e anche il loro mancato coordinamento con altre disposizioni che sono invece rimaste invariate il che ha creato veramente un amplissimo ventaglio di opzioni interpretative che vanno da un'interpretazione più restrittiva e letterale quindi con difficoltà di individuare un ambito ampio di applicazione della norma ad applicazioni amplissime che addirittura arrivano a configurare la possibilità sulla base di questa razza acceleratoria di sostanzialmente chiudere il fallimento mantenendo pendenti non già delle azioni ma addirittura delle situazioni di attesa, di mera attesa. Fatta questa brevissima introduzione diciamo che appunto le norme che entrano, che sono state introdotte sono l'articolo 43 che ha previsto la trattazione delle cause che vedono i fallimenti e i concordati con priorità rispetto alle altre, i due anni previsti oggi per la liquidazione nell'ambito del programma di liquidazione appunto il 118 e il 120 che sono stati appunto modificati con l'introduzione di questo nuovo istituto. Istituto che anche nel dato testuale ricalca quasi pedissequamente una disposizione già esistente nel testo unico bancario con riferimento alla liquidazione coatta amministrativa delle banche laddove appunto si prevedeva che i ricorsi e i giudizi pendenti non impedissero l'attività di chiusura di queste procedure. Sappiamo dell'esistenza in altri ordinamenti di un sistema di proprio normativo sulle procedure che lasciano addirittura nella sola fase giurisdizionale la fase di accertamento del passivo e quella di ricognizione dell'attivo. Il nostro legislatore con l'introduzione di questa norma ha fatto un passo nella direzione di questo modello pur non adottandolo in toto perché ha sostanzialmente ritenuto di poter chiudere i fallimenti lasciando fuori una parte della ripartizione mentre sembrerebbe aver voluto tenere comunque procedimentalizzato quindi sotto nella fase diciamo giurisdizionale la fase della liquidazione vera e propria. Queste sono le premesse che mi servono per arrivare nel diciamo ad affrontare le tre questioni interpretative della nuova della nuova disposizione. Abbiamo detto appunto la prima questione che ci possiamo porre è se la disposizione sia applicabile o comunque incida in qualche modo sulla possibilità di chiudere i fallimenti lasciando pendenti delle liti passive cioè quelle relative all'accertamento del passivo. Su questo punto io vado molto rapida poi eventualmente la collega De Bernardin se vorrà approfondirà la questione ma mi sembra di poter dire che la tesi prevalente è in senso negativo perché in realtà la norma è chiaramente tagliata sulla specie opposta delle cause che hanno come finalità quella di introiettare attivo da distribuire ai creditori ma soprattutto esistono già delle norme ad hoc che non sono state toccate dalla mini riforma estiva che sono l'articolo 113 e 117 che si occupano in realtà con riferimento alle possibilità di fare degli accantonamenti in sede di chiusura in riferimento alle liti passive. Queste norme non sono state toccate e a mio avviso adesso poi non entro nel dettaglio di quella che ne è la disciplina ma in ogni caso non si può desumere che dall'introduzione delle nuove disposizioni del 118 si possa divenire una diversa disciplina delle chiusura in pendenza di liti passive. L'altra problematica applicativa riguarda la possibilità di chiusura, di chiudere i fallimenti con pendenza di liti in un caso diverso da quello del numero 3 del primo coma dell'articolo 118 poiché infatti le disposizioni neo introdotte così esordiscono la chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al numero 3 non è impedita dalla pendenza di giudizi e ovviamente il numero 3 è il caso di chiusura per ripartizione finale dell'attivo. L'interrogativo che ci sia fin da subito posti è se la chiusura anticipata con pendenza di liti sia possibile nel caso in cui non vi sia nessun attivo attualmente distribuibile cioè nel caso in cui ci siano dei liti pendenti e da questi liti ci si possa aspettare di ricavare dell'attivo da distribuire ma si parlerebbe di un riparto supplementare in realtà impropriamente perché nessuna ripartizione finale vi sarebbe invece alla chiusura del fallimento. Da questo punto di vista devo dire che probabilmente la tesi prevalente è una tesi da questo punto di vista che è positiva all'interpretazione diciamo allargata della norma anche se vi sono circolari di numerosi tribunali che invece propendono per la tesi restrittiva. In realtà l'unico aspetto pratico davvero rilevante nella possibilità o meno di accettare questa tesi è quella relativa al compenso del curatore nel senso che ovviamente non essendoci attivo una chiusura che arriva senza attivo comporterebbe una liquidazione del compenso a carico dell'erario ma ci sarebbe però la prospettiva di avere un attivo in conseguenza delle cause che vengono proseguita di tal che sarebbe improprio porre anche solo temporaneamente a carico dell'erario un compenso del curatore. È un problema che vi pongo perché in realtà anche in relazione a questo alcuni autori, alcuni tribunali hanno fatto una precisa scelta ermeneutica di rimanere fedeli al dato testuale che fa riferimento appunto al numero 3 e quindi alla chiusura con dell'attivo che sia già prima della chiusura distribuibile. Ma il punto veramente dolente per come è stata scritta la norma è quello relativo invece all'ambito applicativo con riguardo alle liti attive. Innanzitutto bisogna precisare un punto che ovviamente noi dobbiamo trovarci in una situazione in cui l'attivo, cioè la liquidazione in senso proprio deve essere compiutamente esaurita e tuttavia vi siano delle azioni che siano già pendenti perché questo è il punto su cui tutti quanti gli interpreti poi sono d'accordo, cioè che non si può pensare di fare una chiusura in vista di un'azione che non sia stata già concretamente introdotta. Questo lo dico perché è una ricaduta pratica che tutti noi che ci occupiamo di procedure possiamo intuire, cioè quando siamo in attesa dell'esercizio dell'azione penale perché non facciamo un'autonoma causa di responsabilità degli amministratori per le ragioni più svariate e attendiamo di costituirci eventualmente parte civile, ecco in questa situazione noi nell'attesa dell'esercizio dell'azione penale non potremmo chiudere il fallimento perché non abbiamo nessuna azione, nessuna causa, nessun giudizio già pendente e quindi dovremo comunque attendere l'esercizio dell'azione penale. Per quanto riguarda quindi poi l'ambito applicativo spero di essere sufficientemente rapida. possiamo dire che si scontrano tra i diversi schieramenti. C'è una prima interpretazione che appunto si fonda e si basa sul dato letterale che quindi addiviene a una lettura fortemente restrittiva della norma. Facendo leva infatti sul riferimento che la norma stessa fa a giudizi e a riferimento all'articolo 43 che ovviamente riguarda soltanto la legittimazione del curatore con riferimento a controverse relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento. E quindi sostanzialmente secondo questa tesi resterebbero fuori dal fuoco della norma e quindi dalla possibilità di chiusura mantenendo la lite pendente invece le azioni di massa. E questo tipo di interpretazione secondo chi la sostiene troverebbe anche sostegno dalla mancata modifica dell'articolo 120,2 il quale nel sancire sostanzialmente l'improcedibilità delle azioni di massa non è stato toccato dalla modifica. Ora in realtà questa interpretazione è stata da molti ritenuta necessitante un superamento perché di fatto se no comporterebbe che la nuova norma sarebbe applicabile soltanto alle ipotesi limitate delle azioni relative a diritti già nel patrimonio del fallito. Devo dire la verità che il nostro tribunale in realtà non è ancora pervenuto al superamento pieno di questa tesi restrittiva elettorale. In realtà è molto curioso ma se si legge la relazione di accompagnamento del decreto legge è proprio la stessa relazione che fa riferimento a questo tipo di controversi in maniera esplicita e non indicandone altre. E inoltre il rischio, e questa è la ragione delle cautele che noi stiamo adottando al momento con riguardo alle azioni di massa che io l'ho preciso insomma ma sono sostanzialmente, pensiamo, tutte le revocatorie fallimentari. Quindi saremmo in presenza dell'impossibilità di chiudere con le revocatorie fallimentari pendenti. Quindi una grossissima fetta del contenzioso che tiene bloccati i nostri fallimenti non ci consentirebbe comunque di addivenire alla chiusura col nuovo strumento. Le ragioni della cautela sono anche legate al rischio che il giudice di queste cause possa ritenere invece di aderire lui alla tesi restrittiva non ritenendo invece prevalente l'interpretazione teleologica che altra parte della dottrina e della giurisprudenza ha ritenuto di dover fare per superare il dato testuale, peraltro con argomenti ampiamente condivisibili perché in realtà il riferimento all'articolo 43 sembrerebbe, e così può essere letto, come un mero riferimento alla persistenza, alla perdurare della legittimazione del curatore proprio in caso in cui col fallimento questa legittimazione lui verrebbe evidentemente a perdere perché si fa riferimento a diritti che erano i diritti del fallito prima del fallimento. E la stessa cosa, lo stesso superamento delle perplessità interpretative si possono avere anche sull'articolo 120, laddove si può ritenere che l'improcedibilità delle azioni di massa valga soltanto per quelle ipotesi di chiusura in cui non si faccia luogo al mantenimento delle cause pendenti. Quindi sono tutte interpretazioni pienamente sostenibili e quindi solo un dato di cautela oggi può far propendere per un mantenimento del valore letterale della norma. Peraltro c'è anche un provvedimento del marzo di quest'anno del Tribunale di Firenze che non è edito ma a cui si è fatto riferimento in nota in uno scritto della professoressa Fagni in cui il Tribunale ha esplicitato questo tipo di soluzione ermeneutica e l'ha riagganciata comunque alla possibilità di ottenere un'accelerazione di queste cause grazie al novellato articolo 43 che prevede appunto che anche nei programmi di smaltimento siano cause che debbano avere un canale preferenziale. Io a questo punto direi che ci sono poi altre due tesi una tesi che è restrittiva con riferimento alla razio cioè sostanzialmente amplia il fuoco della norma anche alle azioni di massa e anche oltre al di là del termine utilizzato giudizi che sembrerebbe restringere soltanto alla fase della connessione facendo quindi cadere nell'ambito di applicazione della norma anche le procedure esecutive su beni di terzi cioè quelle che siano finalizzate a realizzare le decisioni già favorevoli già ottenute o che verranno ottenute grazie alle liti pendenti però con il limite sostanzialmente che le liti pendenti non portino un risultato che obblighi a una fase liquidativa vera e propria perché abbiamo detto che la liquidazione in senso stretto come monetizzazione dei beni del fallimento nonostante l'introduzione di questa norma verosimilmente il legislatore l'ha voluta tenere all'interno della procedura invece in questo modo facciamo un esempio così ci capiamo tutti una revocatoria fallimentare che ha ad oggetto un bene immobile che è stato ceduto recuperare l'inefficacia della cessione comporterebbe la necessità di dover realizzare con una vera e propria liquidazione questo bene il che non sarebbe compatibile con la razza, il senso dell'istituto e tutto questo avrebbe anche un aggancio normativo nell'articolo 116 relativo al rendiconto il quale presupporrebbe che tutto l'attivo sia stato liquidato pertanto non si potrebbe secondo questa tesi utilizzare l'istituto del mantenimento delle liti pendenti quando queste liti sono appunto finalizzate a recuperare un attivo che debba però poi essere liquidato e quindi si debba decidere come liquidarlo e attuarne la liquidazione in questo senso quindi poi rimarrebbero escluse anche le procedure esecutive sui beni del fallito nell'ipotesi in cui questa sia la modalità di liquidazione perché ad esempio il curatore prosegue un'esecuzione già pendente ai sensi del 107 oppure ci sia l'esecuzione immobiliare della banca con ipoteca da mutuo fondiario l'ultima tesi invece è quella più ampia di tutte cioè sostanzialmente ci sono alcuni interpreti che ritengono che questa norma debba trovare la massima applicazione possibile e quindi debba applicarsi anche nell'ipotesi in cui il risultato finale delle azioni pendenti sia un risultato che poi necessiti di un passaggio liquidatorio ma anche addirittura nei casi in cui non vi sia una vera e propria azione ma una mera attesa come nel caso di un fallimento che abbia chiesto un rimborso IVA sia semplicemente attendendolo o nel caso dell'attesa del pagamento da parte di un concordato io non come ho già detto sinteticamente qual è la posizione del nostro tribunale che in questo momento è di attesa ma tendenzialmente diciamo che stiamo chiudendo soltanto fallimenti in cui ci siano contenziosi relativi al recupero crediti quindi attenendoci molto al dato letterale della norma non entro nella casistica perché non voglio rubare del tempo agli altri relatori e quindi mi faccio grazie grazie dottoressa Mirabelli per l'ampio e il tempo stesso sintetico excursus sul panorama delle azioni potenzialmente interessate da questa nuova disciplina mi trova pienamente d'accordo su alcuni punti in particolare quello della non applicabilità della norma o meglio della non inerenza della norma alle liti passivi per le quali c'è già una disciplina a sé stante che è quella praticamente del 117 pienamente d'accordo sul fatto che le esecuzioni pendenti debbano andare a compimento e non sia possibile chiudere il fallimento in pendenza di azioni pendenti specialmente in pendenza di azioni fondiari oppure di esecuzioni individuali dove il curatore si è subentrato neppure in queste ipotesi sull'ipotesi della chiusura senza ripartizione dove le uniche chance di recupero dell'attivo siano legate all'esito positivo di un giudizio attualmente in corso ho scritto una nota che uscirà sul prossimo numero del fallimento di una pronuncia del tribunale di Forlì dove viceversa si pronuncia apertamente per l'applicabilità della norma anche in queste fatti specie sulla base di un'argomentazione affidata essenzialmente da argomentazioni di ordine costituzionale, equitativo non possiamo far dipendere l'applicabilità o meno dalla norma dalla circostanza puramente contingente del fatto che il fallimento abbia o meno disponibilità liquide che consentano in precedenza una ripartizione o meno forse ci si può arrivare anche in altro modo però in effetti riconosco che il tema è assolutamente disputabile così come invece non mi trovo d'accordo sulla limitazione della norma all'ipotesi che si tratti solamente di giudizi recuperatori di denaro e non anche aventi d'oggetto beni successivamente liquidabili visto comunque il tema poi fatalmente ricadrà anche nell'ambito di quanto verrà a dire passo immediatamente anche perché altrimenti scorriamo la parola al dottor Conca sugli argomenti che ho precedentemente ricordato grazie professore ovviamente il ringraziamento ben più che doveroso per essere chiamato come relatore a uno degli eventi formativi ormai più importanti a livello nazionale in questa materia è naturale però a me a volte piace anche andare non proprio secondo natura e ci sono anche altri sentimenti nel senso che come magistrato che per tanti anni si è occupato della formazione dei magistrati e tuttora è tornato a rioccuparsene giungendo qua a Mantua e venendo di nuovo la perfetta macchina organizzativa allestita ovviamente come motore mobile e immobile dalla Laura De Simone e da tutto come la desinergie degli ordini la presidenza del tribunale e gli altri enti e società che danno il loro fattivo contributo alla riuscita dell'evento in realtà è sempre la sorpresa come riescono in tutto ciò forse con le tradizioni alchemiche di questa città ben più benevole di quelle sataniche di Torino che invece rendono sempre qualunque costruzione di un evento così faticosa e poi un'altra perché giungendo ieri in auto ormai con il buio in città e quindi vedendo per la prima volta stagliarsi Mantua così monumentale quasi onirica aprirsi meravigliosa davanti a me ho pensato ma guarda che argomento mi hanno dato cioè una chiusura che non schiude a differenza di quanto forse aspettava l'affertato legislatore del 2015 nuove prospettive di competitività del nostro sistema in particolare in materia di giustizia civile e quindi molto appropriatamente la tavola rotonda è governata dal professor Montanari non solo come l'autore che si è più occupato e più a fondo e con grande acribia dell'istituto ma perché se si dovesse trovare un magistrato che per via esperienziale avesse una uguale competenza sia pure appunto da un punto di vista della prassi dovremmo aspettare anni nel senso che questo istituto non dico che di questo istituto si possa predicare lo stesso di cui si è predicato del 182 bis un'altra illustre dottrina cioè che ha prodotto più articoli di dottrina che iscrizioni a ruolo ma ci andiamo vicino ci andiamo vicino nel senso che la prassi ormai conosce stuoli di circolari organizzative che variamente declinano l'istituto dicendo si fa così piuttosto che cosa cancellate o non cancellate la partita io insomma poi ci torneremo ma di chiusure che statisticamente quindi da un punto di vista quantitativo abbiano cambiato le sorti delle statistiche delle procedure concursuali certo non è così addirittura sempre per quella ironia ecco che come dire sulla falsa riga del mio arrivo a Mantova proprio nel primo anno di applicazione della norma le chiusure dei fallimenti sono rallentate rispetto al 2015 perché l'ultima forza per esempio tutte le indagini statistiche che si fanno indagine del Cervet a settembre 2016 da una riduzione del 3,7% complessivo delle chiusure fallimentari quindi siccome sappiamo cioè sempre in discesa ma sta rallentando sta frenando il ritmo e siccome è massima di esperienza per cui in qualunque tribunale una parte significativa delle procedure un po' più agè rimane aperta proprio scontando in realtà i tempi solo del contenzioso civile evidentemente la norma dei problemi li ha una buona parte di questi problemi nella lettera di ingaggio mi sono stati assegnati e tuttavia da un lato il tempo dall'altro il fatto che abbiamo noi alle spalle la sessione penalistica e quindi pubblici ministeri e giudici penali di grande valentia è sempre buona norma lasciare uno spazio un temporis tra l'inseguito e se l'inseguitore è un pubblico ministero quindi in questo contesto cercherò di fare un intervento come dire unitario per quanto possibile allora questa norma come diciamo è noto ha la sua come la sua nell'intenzio legis c'era quello di ulteriormente abbattere l'arretrato per un certo verso per ridurre i costi e i rischi conseguenti alla legge Pinto e per altro verso appunto risalire le posizioni che ci vedono sempre appunto in situazioni come dire subtropicali dal punto di vista della competitività con altri ordinamenti l'idea è stata quella di generare questa chiusura non chiusura come un quadro di Magritte questa non è una tipa questa non è una chiusura è una chiusura virtuale in cui l'attività cessa determinate sotto determinati presupposti però per il resto cioè la prosecuzione del contenzioso con tutti i caveat che sono già stati ricordati dalla collega prosegue e proseguendo più o meno è poi necessario un'ulteriore attività consecutiva degli organi fallimentari o quanto meno di quelli che la norma stessa censisce e cioè il curatore e il giudice delegato mentre il comitato dei creditori si perde forse perché anche qui dopo dieci anni si è perduta anche un po' di affezione rispetto alla utilità e alla stessa possibilità di esistenza di questo organo direi però che la norma strattamente ha anche un'altra valenza e cioè per certi versi moralizzatrice se noi dobbiamo occuparci di come dire scongiurare i rischi di risarcimento del danno dai ragionevole durata della procedura in realtà quelle che subiscono di più il danno dalla legge pinto sono le procedure stesse cioè nel contenzioso civile ci si trova con una parte che è in una situazione per così dire di minorata difesa nel senso che mentre una parte è potenzialmente indifferente alla durata del processo l'altra parte il fallimento la procedura fallimentare invece non ha nel tempo una variabile indipendente e quindi è chiaro che ed è così che molto spesso nelle scelte processuali e poi anche nelle scelte transattive la durata e la previsione di ulteriore durata del contenzioso è un elemento che viene in considerazione ma viene in considerazione come valore autonomo e non solo in relazione all'attualizzazione del come dire della res litigiosa quindi da questo punto di vista ecco che il 118 numero 2 avrebbe anche come dire la possibilità di consentire alle procedure fallimentari di proseguire il contenzioso senza avere le mani legate o le gambe nel sacco e dovendo correre con un altro che le gambe nel sacco non ha detto questo il problema diciamo che dal punto di vista procedimentale grossi problemi non ce ne sono cioè i problemi sono a monte e infatti si vede nelle varie circolari organizzative che ovviamente di cui risparmio lo snocciolamento perché molti tribunali se ne sono occupati un prontuario è un vademecum ai curatori volto a individuare il perimetro esterno di applicabilità della norma e quindi i fondamenti sulla base dei quali effettivamente poter presentare una istanza di chiusura ai sensi del 118 numero 2 numero 3 ma e poi sulle modalità attuative successive la possibilità poi di proseguire con i rapporti riepilogativi la necessità di presentare un rendiconto cioè quindi tutta la dinamica successiva a questo decreto di chiusura i problemi maggiori tuttavia e quelli che più verosimilmente ostano a una attuazione effettiva della norma sono quelli fiscali cioè l'incertezza relativa al regime fiscale della procedura o non procedura procedura chiusa cessata successivamente alla chiusura sia da un punto di vista di adempimenti formali sia da un punto e quindi poi eventualmente di sanzioni per il curatore sia da un punto di vista obiettivamente più delicato di eventuale impatto fiscale sostanziale per la massa dei creditori da un lato sotto il profilo in particolare del regime dei rimborsi IVA e dall'altro anche circa la ipotetica possibilità di una emersione di un'imposizione sul reddito che ovviamente nell'ambito del fallimento e fino a che il fallimento non si chiude quindi fino a prima del 2015 era assolutamente da escludersi se nella misura in cui rarissima Avis non vi fosse un residuo attivo ulteriore cioè dopo avere soddisfatto interamente il ceto creditorio e pagate tutte le spese ed infatti da subito dai primi momenti successivi all'applicazione all'entrata in vigore della norma a partire dal tribunale di Novara ma non solo sono stati formulati interpelli all'agenzia delle entrate ma mentre non so il tribunale di Novara ancora aspetta come molti sapranno la direzione regionale del Veneto invece ha già dato una risposta che ha risolto dal punto di vista formale alcuni problemi ma non li ha affatto risolti o non risolti del tutto dal punto di vista sostanziale la situazione delle risposte della come dire del Rescriptum Principis ecco dell'erario è ancora in corso di evoluzione e grazie alla cortesia del presidente Zanichelli come dirò notizia di una ulteriore risposta della direzione centrale normativa dell'agenzia delle entrate che dovrebbe essere proprio di settembre ottobre di quest'anno che però è una risposta ibis red ibis non morire sin bello cioè facciamo un punto partiamo direi da quella del Veneto una delle questioni una questione formale che però ha delle ricadute sostanziali è appunto quella se nel momento in cui si chiude ma si chiude con queste nuove modalità la procedura si debba come la lettera della norma presupporrebbe giungere alla richiedere la chiusura della partita IVA e alla cancellazione della società cancellazione della società come adempimento conseguenziale ancora di pronta civilistica e poi per lo stesso ovviamente cancellata la società per forza cessa anche l'attività e dunque si deve chiudere la partita IVA è chiaro che nel momento in cui noi abbiamo questa chiusura virtuale questa chiusura che non comporta in concreto la cessazione dell'attività perché c'è ancora un contenzioso ci sono ancora eventualmente professionisti da pagare malauguratamente anche oneri di soccombenza da corrispondere e poi da ripartire possibilmente il risultato utile di queste azioni e quindi c'è la necessità di una operatività ancora IVA ecco che ci si è divisi e tuttora ci si divide sulla scelta formale cioè se si debba valorizzare la lettera della legge e dunque a questo punto chiudere chiuso il fallimento cancellare la società da un punto di vista civilistico la Cassazione non da oggi ci insegna certo è un meccanismo complesso dal punto di vista pratico ma chiaro dal punto di vista giuridico che subentrano nel bene e nel male in tutti i rapporti i soci della società cancellata e dal punto di vista fiscale la chiusura della partita IVA e a questo punto però la necessità di riaprire una partita IVA per proseguire a fare quella stessa attività che quel soggetto il fallimento continuava e continua a fare perché quella stessa attività liquidatoria sia pure mediata dal contenzioso è sempre il curatore che fa da questo punto di vista direi che poco conta evocare l'articolo 120 che fa riferimento al fatto che il giudice delegato e il curatore restano in carica i soli fini di quanto evi previsto cioè appunto in relazione al 118 numero 2 certo in relazione a quei fini ma in relazione a quei fini sono pur sempre il giudice delegato e il curatore non cambiano di statuto e rispondono al medesimo statuto qualunque resezione certe norme sì e certe altre no è ugualmente sarebbe ugualmente arbitraria la direzione regionale Veneta ha dato una risposta però appunto in questi termini si chiude e si riapre la partita IVA non deve esserci più però il codice fiscale invece si può tenere si occupa del profilo dei rimborsi solo sotto il profilo del fatto che non è necessario prestare le garanzie non sotto il profilo di come poi gestire operativamente e soprattutto da una come dire a un certo punto da una risposta che verosimilmente non dovrebbe condurre a conseguenze negative poi per la massa dei creditori ma non è una prosa cristallina circa poi la presentazione della dichiarazione dei redditi dell'unico la direzione precisa che va invece presentata nei termini stabiliti dall'articolo omissi su un nuovo modello unico al fine di garantire che i riverberi economici derivanti dalle cause pendenti successivamente alla formale chiusura del fallimento rilevino alla fine della determinazione dell'imponibile irresa norma dell'articolo 183 testo unico imposte sui redditi evitando salti di imposta in tale ulteriore dichiarazione dei redditi confermato il nuovo maxiperiodo andrà rideterminato l'imponibile tenendo conto dell'esito dei contenziosi e liquidata l'eventuale relativa imposta con i conseguenti adempimenti se dovuti cioè come dire qui la mia cavalleria costa poco nel senso che la platea in questi casi è tutta di apoti una parte di coloro che non sanno nulla di diritto tributario che non se la bevono nel senso che non possono bere e gli altri che non si bevono né la mia rappresentazione di quello che posso dire dell'agenzia delle entrate né di quello che l'agenzia delle entrate dice dunque mi trovo su un crinale sottile ma tutto sommato non troppo malagevole in ogni caso il concetto è che ovviamente ai fini dei redditi il fallimento è da considerarsi dell'imposizione sui redditi unitario per tutto il periodo e si pagano ripeto dei redditi solo nel momento in cui emerga un residuo attivo la ipotesi qui era di fare una dichiarazione integrativa che l'agenzia delle entrate dice non possibile perché una dichiarazione integrativa avrebbe il fondamento di un errore mentre qui non c'è nessun errore c'è una nuova situazione ed è verissimo e quindi però invoca l'ipotesi sostanziale di una riapertura ma anche questo da un punto di vista civilistico è assolutamente errato perché non è una riapertura del fallimento e però postula la necessità quindi di aprirsi un nuovo maxiperiodo e quindi una nuova ipotetica imposizione allora è chiaro che in questo lambiccato richiamo alla considerazione complessiva dell'esito dei contenziosi se insomma l'esito finale è che deve essere fatta una valutazione unitaria del risultato economico della procedura prima della chiusura e successivamente alla chiusura allora è chiaro che da un punto di vista di imposizione dei redditi non ci sarà nessuna conseguenza nel senso che non si pagherà nulla se e nella misura in cui appunto il fallimento non vada a generare un residuo attivo superiore alla massa passiva complessiva e comprensiva degli oneri di prededuzione ma se invece si ritenesse che questo è una nuova storia e che quindi in relazione anche a un termine usato in maniera un po' affrettata dal legislatore civile sopravvenienze si tratti veramente di sopravvenienze non si tratti semplicemente di recuperare ancora dell'attivo in relazione a debiti e dunque a perdite che hanno patito i creditori ecco che da questo punto di vista il nostro istituto della chiusura sarebbe rovinoso perché ci si troverebbe di fronte a una come dire a un abbattimento delle possibilità di soddisfacimento dei creditori su tutto questo con ulteriore appunto con quella risposta come dire che a sua volta interpella ulteriori risposte della direzione centrale la direzione centrale affrontando un quesito analogo che era stato proposto da un fallimento partita IVA sì partita IVA no e da quello tutte le conseguenze formali e sostanziali ha sostanzialmente anche formalmente detto che la risposta non è semplice a disciplina fiscale invariata poiché il legislatore non è intervenuto per adeguare le norme fiscali alla nuova realtà fallimentare la problematica sollevata dall'istante non è di immediata soluzione in quanto le regole ordinarie appaiono di difficile applicazione e quindi sostanzialmente apre a entrambe le ipotesi da un punto di vista formale proseguite con la vecchia partita IVA e assolvete gli obblighi secondo le regole ordinarie oppure se invece il tribunale dispone come era stato proposto nell'interpello sulla base di quella prima risposta della direzione veneta allora si riaprirà la partita IVA al fine di ottemperare tutti gli obblighi in argomento ma tutti gli obblighi in argomento sono spiegati come vi ho accennato il che significa che da un punto di vista fiscale delle certezze non ce ne sono non ce ne sono né sotto il profilo delle sanzioni in cui eventualmente e malauguratamente dovrebbe intercorrere incorrere il curatore e soprattutto sotto il profilo delle conseguenze ecco che allora e così vado a concludere cercando di dare corpo a quella idea di un intervento unitario senza soffermarsi su tutti i singoli minuti problemi certo altrimenti l'ho preso no 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 questa è una è una norma del tutto come dire finzionistica ha una determinata finalità come è stata ricordata allora è come dire una sineddoche cioè dice una parte ma in proiezione di un tutto che non c'è è inevitabile un'attività interpolativa non solo interpretativa questo punto da questo punto di vista dell'operatore se per quanto riguarda la disciplina concorsuale fallimentare tutto sommato siamo all'interno di un sistema autonomo e dunque per quanto non detto sia pure in relazione ai fini residui degli organi fallimentari si può e si deve fare riferimento allo statuto complessivo che hanno quegli organi vedi adempimenti in materia di appunto informative successive e operatività degli stessi come variamente declinato hanno affermato tendenzialmente le varie circolari dal punto di vista fiscale ci si scontra con un plesso autonomo e differente in relazione a questo plesso se la stessa direzione centrale delle entrate ci dice che è possibile una cosa è possibile l'altra forse non è possibile nessuna ecco che come invece era stato ricordato in un altro articolo di dottrina di un valente collega la chiusura di cui stiamo parlando è doverosa sarà anche doverosa ma nemo ad impossibili a tenetur cioè in questo contesto vale come dire il merito alla business judgment rule del curatore si devono valutare ancora dei rischi potenziali di conseguenze fiscali che come siccome non autonomamente e non del tutto preventivabili in questo momento suggeriscono di non affrettare eccessivamente l'annoso problema della chiusura dei fallimenti un anno in più nelle statistiche vicino al Congo non cambierà o peggiorerà la situazione della competitività italiana grazie l'unica certezza quindi che emerge in pratica che non vi è certezza su nulla soprattutto non ce l'hanno i responsabili diretti che giustamente rivendicano un intervento normativo di adeguamento da parte loro non da parte del legislatore civile processuale fallimentare benissimo non voglio sottrarre ulteriori tempo già abbastanza rimarrà compressa anche se penso che cinque minuti di proroga almeno gli siano concessi si sente sì allora intanto ci tengo anche a ringraziare l'organizzazione per l'invito e la collega De Simone per appunto avermi pensato per essere qui oggi pomeriggio e niente vi sono qui per provare a tratteggiare quello che dovrebbe essere lo scenario di questo fallimento chiuso non chiuso comunque insomma in una situazione che ancora credo che non abbiamo ancora vissuto quindi provando a prefigurare quelle che potrebbero essere le problematiche che si affacceranno sulle nostre scrivanie noi come giudici delegati e voi come curatori allora intanto quello che a me subito ha lasciato perplessa e che tuttora lascia perplessa è che cosa potranno fare curatore giudice delegato in questo nuovo scenario nel senso che io sono diciamo un po' perplessa su questa disposizione in generale perché appunto tutti i problemi di applicazione che sono stati citati chiaramente lasciano perplessa a me come tutti gli altri però diciamo il fatto che ci ritroviamo in una situazione in cui siamo chiusi e non chiusi per alcuni profili sì per altri profili no secondo me rende a maggior ragione problematica la situazione in questa prima fase la riflessione è sulla sull'ultraattività degli organi fallimentari perché se è vero che già nella legge fallimentare diciamo quella del 42 si diceva che appunto con la chiusura del fallimento decadono gli organi fallimentari e se comunque erano già previste delle ipotesi di ultraattività degli organi fallimentari che erano positivizzate perché abbiamo appunto il coinvolgimento del curatore del comitato dei creditori per l'esabilitazione abbiamo il controllo del curatore sull'esecuzione del concordato abbiamo la fase dell'assegnazione da parte del giudice delegato delle somme non riscosse ai creditori che hanno fatto richiesta senza il 117 comma quarto così come c'erano ipotesi non positivizzate di ultraattività delle organi della procedura quando per esempio essenzio al 117 secondo comma si trattava di invece distribuire somme che non erano poi che erano state accantonate che non hanno avuto poi la destinazione che era originata da cui era originata l'accantonamento diciamo che nel vigore della precedente diciamo prima del 2015 si parlava di ultraattività degli organi strettamente collegata al completamento necessario della liquidazione concursuale già adottata cioè c'era un fallimento chiuso c'erano delle piccolissime code diciamo di esecuzione ed effettivamente si trattava di piccolissime code che venivano riconosciute come validamente poste in essere e diciamo questo ha creato alcuni problemi che poi vedremo ma insomma tutto sommato si era assestato il 120 quinto comma ci dice che il curatore e il giudice delegato restano in funzione per l'espletamento dei fini di cui al 118 comma terzo e seguenti così come introdotti dal decreto legge 83 quindi diciamo apre un nuovo scenario che a stretto rigore riguarda la legittimazione processuale del curatore nelle controversie per cui prosegue per cui non viene fatta che proseguono malgrado la chiusura le rinunce e le transazioni che a questo punto saranno autorizzate dal giudice delegato parla dei riparti supplementari e ci parla dell'esdebitazione cioè sono una serie di attività che potranno continuare a essere portate avanti ora chiaramente un'interpretazione letterale di questa disposizione non è possibile cioè tutti noi che ci lavoriamo tutti i giorni con questi problemi ci rendiamo conto che gli organi della procedura non potranno limitarsi a fare soltanto queste cose dovranno necessariamente fare una serie di attività che esulano dal dettato normativo quindi necessariamente bisognerà scavallare in un'ultraattività non positivizzata che però secondo me va cautamente diciamo pesata nel senso che la castazione proprio sugli atti compiuti dal curatore dal tribunale dopo la chiusura del fallimento si è pronunciata anche recentemente nel senso dell'inesistenza giuridica perché è chiusa la procedura e quindi diciamo il contesto del fallimento non c'è più gli organi non hanno più legittimazione per cui se è vero che qui abbiamo una coda legittimamente ancora in essere dobbiamo secondo me stare attenti a non farci prendere dall'entusiasmo poi eventualmente di dire vabbè se abbiamo chiuso ma è soltanto una truffa delle etichette perché sebbene questa è l'impressione che forse un pochino possiamo avere un po' tutti forse diciamo almeno questa è l'interpretazione che su cui insomma sarei diciamo convinta io cerchiamo di fare quello che è necessario ma di farlo lo stretto indispensabile per cui se il tribunale deve intervenire perché il curatore si è dimesso o si è cancellato dall'albo il giudice delegato è cambiato non si può pensare che il tribunale non possa sostituire il curatore o il giudice delegato per cui diciamo è un intervento necessitato perché un ufficio impersonale non può restare così come ci saranno attività del giudice delegato che secondo me per quanto non previste dalla norma saranno necessarie cioè l'abbandono della liquidazione del bene del 104 tercom a ottavo sebbene non indicato nella norma non vedo come non possa essere diciamo comunque posto in essere dal giudice delegato con una piccola forzatura però se la liquidazione non va da nessuna parte e piuttosto che continuare a investire denaro per tentare una vendita all'espropriazione di un bene che non viene venduto e quindi bisogna continuare a anticipare le spese per il professionista il non vedo perché non si possa intervenire il giudice delegato anche se è una forzatura perché qui teoricamente non c'è una deroga sul comitato dei creditori quindi questa è una prima riflessione che vi pongo perché chiaramente l'attività che potranno compiere gli organi secondo me dovrà comunque essere calibrata su quel programma di liquidazione che è stato approvato dal comitato dei creditori perché se poi chiuso il fallimento il curatore e il giudice delegato si possono diciamo incominciare a gestire il fallimento senza però questo organo di controllo che è stato diciamo il fulcro della riforma del 2006 temo che poi veramente si vada si rischi di poter snaturare completamente un istituto che da funzionale rischia di essere travidato per come potrebbe essere però il problema grosso è che di che cosa succederà una volta che tu hai chiuso il fallimento nessuno lo sa cioè sappiamo benissimo che è l'imprevedibile dietro l'angolo quindi c'è secondo me da sperare che poi diciamo tutti quanti gli attori della procedura si comportino in maniera diciamo regolare e contribuiscano a farlo funzionare nella maniera più semplice possibile coinvolgendo il meno possibile il tribunale altra cosa che non è disciplinata dalla legge ma che secondo me sarà necessaria e in tutti quanti i decreti di chiusura che finora sono stati adottati viene richiesta è comunque il permanere di una relazione periodica da parte del curatore perché il tribunale deve poter continuare a monitorare sulla correttezza della sua attività anche qui non è previsto ma ritengo che non ci potranno essere grossi dubbi su questo sempre nella funzione di monitorare quello che è la liquidazione che viene posta in essere fatta questa brevissima premessa cioè premessa insomma sono delle considerazioni che volevo un attimo vedere con voi il discorso su che cosa fa il curatore con questo decreto nel senso che una volta che si è adottato il decreto di chiusura gli scenari potrebbero essere diversi tipi sono stati immaginati o quelli che ho visto non indicano specificamente le liti per le quali la procedura rimane in piedi quindi adesso non so se nei tribunali in cui sono stati adottati questi decreti la determinazione delle procedure sia stata fatta in che momento se prima o dopo però io credo che potrebbe essere saggio che il decreto del tribunale con cui viene disposta la chiusura individui le controversie per le quali la procedura proseguirà di modo da agevolare il curatore nella gestione di questa procedura che continua perché questo perché come è stato accennato prima che cosa succederà davanti al giudice che c'ha la causa nessuno di noi lo sa quali saranno le eccezioni che gli avvocati potranno sollevare rispetto a se effettivamente il fallimento è chiuso o meno secondo me non saranno peregrine per cui che diciamo l'individuazione che il che questi controverse siano individuate secondo me può aiutare il curatore il quale secondo me cautamente potrebbe per evitare che venga strumentalizzata la chiusura per chiedere l'interruzione del giudizio tramite il proprio difensore direttamente tramite il difensore partecipare all'udienza davanti al giudice che procede rappresentando che effettivamente è stata fatta una chiusura ma che quella determinata procedura per cui l'avvocato è ancora lì è rimasta in piedi su indicazione del tribunale alcuni hanno ipotizzato che sia il giudice delegato successivamente alla chiusura indicare al curatore quali possano essere i giudizi che proseguono francamente sono un po' perplessa perché se il tribunale si sbilancia su questo secondo me c'è una struttura più solida dietro sempre con riferimento ai giudizi c'è una problematica che mi limito ad accennare so che non sono d'accordo col professore per cui metto le mani avanti il problema in queste controverse è che cosa succede del debitore tornato in bonus nel fallito tornato in bonus a questo punto teoricamente riacquista la capacità processuale rispetto a tutte le controversie le altre controversie per cui non è stata fatta la prosecuzione della procedura e rispetto invece alle liti per cui si prosegue si pone il problema se la sua figura assume il ruolo di liti sconsorte oppure di soggetto che può meramente intervenire nel giudizio mi sembrerebbe data la peculiarità della fattispecie che potremmo restare a quella che era il vecchio orientamento cioè in presenza di fallimento il curatore cioè il debitore è spossessato dei beni o quantomeno dei diritti relative ai beni che sono oggetto della controversia e quindi eventualmente potrà fare un altro intervento adesivo nel procedimento ma il suo coinvolgimento come liti sconsorte è necessario forse può portare una serie di problemi anche proprio di retrocessione delle fasi del processo che forse potrebbero essere un po' di più rispetto a quello che si era prefisso il legislatore solo una piccola notazione rispetto alla cautela da utilizzare in questi procedimenti il 43 quarto comma che dà come indicazioni nei programmi di gestione degli uffici di dare la precedenza o comunque di dare una corsia preferenziale ai procedimenti in cui è parte un fallimento non sono sicura che nel momento in cui il fallimento è chiuso ci si potrà continuare a valere insomma del titolo di fallimento nel senso che io chiedo sempre ai miei curatori di far valere davanti ai colleghi la presenza del fallimento come parte del processo per sensibilizzarli a una trattazione più celere una volta che il fallimento è chiuso non so sinceramente se ci sarà ancora titolo per andare a chiedere una corsia preferenziale parlo due minuti dei riparti perché ci siamo ho capito che ci siamo allora per quanto riguarda il riparto due cose ritengo che nel riparto dovranno essere gestiti non soltanto le sopravvenienze delle liti ma anche quelli che sono stati gli accantonamenti del 117 secondo comma che teoricamente non rientrano in questa fase di riparto però diciamo potrebbero benissimo essere gestiti in maniera unitare dal curatore forse così avremmo trovato una disciplina unica per i riparti quello e tutti quasi tutti gli uffici si stanno orientando nel senso della necessità di nuovamente presentare un rendiconto alla cessazione cioè si parla di rendiconto non è detto se prima o dopo io francamente sarei dell'idea che un rendiconto di gestione alla fine di tutta l'attività lo si può senz'altro imporre al curatore perché comunque il 116 parla di tutti i momenti in cui cessa l'attività del curatore quindi probabilmente nel momento in cui sono compiuti i riparti nel momento in cui diciamo in qualche modo viene a chiudersi questa attività posta in essere dopo la chiusura un rendiconto di gestione possa essere compiuto chiaramente non con l'udienza fissata perché diciamo si tratta di un di più rispetto all'attività meramente liquidatoria quello che si potrebbe pensare è l'invio comunque di una PEC col rendiconto a tutti quanti i creditori che eventualmente dovessero avere osservazioni potrebbero farlo presente al giudice delegato insomma la trasparenza penso che questo come minimo ce lo richieda per quanto riguarda poi le modalità del riparto è stato prefigurato da qualcuno che il tribunale in sede di decreto di chiusura prefiguri un riparto virtuale cioè sulla scorta del piano di riparto ipotizzi determinate somme dovrebbero andare a confluire su determinati creditori questo secondo me è assolutamente infattibile nella misura in cui nel momento in cui si chiude potrebbero esserci riserve da sciogliere surre del 115 che non sono ancora state fatte sono tutte diciamo aggiustamenti dello stato passivo che sono molto più frequenti e capitano per cui mi sembra difficile che il tribunale in sede di chiusura possa già prefigurare la situazione esatta le modalità a cui fa riferimento il 118 probabilmente sono le modalità diciamo procedimentali per cui magari non molti tribunali parlano del 110 il 110 chiaramente il modello del 110 non essendoci più il comitato dei creditori non si può usare per i fallimenti vecchi però diciamo un modello di 110 semplificato senza il comitato dei creditori senza altro potrebbe essere adottato e con questo chiudo perché ho capito che grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti per l'efficacissima rappresentazione e anche il dissenso che ha affacciato è forse più apparente che non reale ma non c'è tempo adesso di illustrare la dottoressa De Simone mi ha detto che intende intervenire il dottor Lacroce però tecnicamente dispone di microfono grazie allora parto dalla affermazione assolutamente condivisibile del professor Montanari che non può essere la norma tributaria a dettare l'interpretazione della norma civile e dico anche però aggiungo che il problema non esiste chiudendosi il fallimento cessa la procedura e viene a cessare si estingue il soggetto passivo di imposta al pari come si estingue una società con la cancellazione del rischio dell'impresa pur con ancora cause attive la castrazione ci ha detto che questo è possibile nessun salto di imposta neppure si può presupporre perché laddove si generasse un attivo ulteriore rispetto a quello distribuibile ai creditori sarebbero esattamente come nella liquidazione delle società di capitali sarebbero gli azionisti o l'imprenditore a dover sopportare l'imposizione fiscale qui termino perché non volevo prendere più tempo grazie ringrazio per l'attenzione grazie a tutti grazie a tutti